Sull'isola siciliana troverai una lapide che dice Flama, secutor, vissuto 30 anni, combatté per 34 volte e vinse 21 volte per pareggiare 9 volte. Un siriano di nazionalità. Potresti non saperlo, ma stai ammirando la lapide del più grande gladiatore che si ha mai vissuto. La fiamma era un soldato dell'esercito siriano che fu catturato dai romani, venduto in schiavitù e gettato nell'arena dei gladiatori, ma fu qui che avrebbe trovato la sua ragione di vita. Flama era un secutor, il che significava che indossava un grande elmetto metallico, brandiva un gladio romano, ossia una leggendaria spada romana contro le reti iris di un avversario incredibilmente agile, altamente specializzato, armato con un tridente e una rete. Con la rete, al quale erano appesi anche dei pesi, poteva bloccare il nemico e infilzarlo vivo con il suo tridente. Alternativamente, avrebbe usato la sua rete per impigliare l'arma dei suoi avversari. Flama, essendo un secutor, che significa praticamente inseguitore, dava la caccia ai suoi avversari, schivando la sua rete alla lunga portata del suo tridente. Lo poteva fare a pezzi con la sua gladius. Flama ebbe così tanto successo e talento nell'arena che divenne rapidamente una celebrità sulla faccia di ogni moneta romana. Come cosa ancora più straordinaria ha ricevuto la rudis, o spada di legno, il che significa che si era guadagnato la sua libertà, ma non una, quattro volte. Ogni volta però la rifiutava, apparentemente perché non voleva ritirarsi da questo sport brutale e spesso vatale. Inoltre è interessante notare che recenti studi hanno suggerito che i gladiatori fossero per lo più vegetariani. Questo potrebbe significare che Flama fosse il vegetariano più forte di tutti i tempi. Ci sono stati numerevoli guerrieri nella storia, ma ciò che li rende veramente grandi e li fa guadagnare uno status leggendario, sono le loro abilità di combattimento, il loro coraggio, ciò che le loro abilità gli hanno permesso di realizzare. Persone che si sono confrontate regolarmente con la morte sono riuscite sempre a vincerla, diventando maestri della propria forma di combattimento. Guerrieri di cui le realizzazioni spiccano sopra quelle di qualunque altro nel loro campo. Fino ai giorni nostri. Tra tutti questi combattenti abbiamo avuto personaggi come Leonida di Sparta, il leggendario re spartano che ha guidato 300 spartani contro Cersei, Yofei che ha combattuto in 166 battaglie e non ha mai perso, il principe Rupert del Reno che era così dotato in battaglia che i suoi nemici credevano che possedesse abilità soprannaturali, o anche Simon Bolivar che durante le sue campagne ha cavalcato 123.000 chilometri più di Annibale Napoleone e Alessandro Magno. Oppure anche personaggi più recenti come il coraggio delle truppe da combattimento Anzac che portarono il comandante tedesco Erwin Rommel ad ammirare il proprio nemico. Tutti conoscono il cliché del guerriero samurai solitario, quello che vaga per il Giappone tagliuzzando nemici a destra e manca, apparentemente senza uno scopo reale. Questo è stato all'aspirazione per innumerevoli fumetti e cattoni animati, ma cosa accadrebbe se ti dicessi che c'era veramente un vero ragazzo che era proprio così ed era probabilmente l'unica ragione per cui esiste questo cliché. Il suo nome è Mayamoto Musashi ed era un samurai ronin che vagava per il Giappone nei secoli XVI e XVII, uccidendo i nemici più pericolosi che riusciva a trovare. Erano così leggendari i suoi combattimenti e capacità con la spada che anche ora è considerato da molti come il Kensei, o santo della spada di tutto il Giappone. Nato nella provincia di Harima, Musashi è da piccolo stato addestrato nell'arte della spada da suo padre e nell'arte marziale della famiglia, ossia il Jitte, un'antica arma della polizia giapponese. Fu presto trasferito in un manastero buddista dove apprese in seguito che sarebbe tornato alla sua vita. Era audace e pieno di talento. Aveva solo 13 anni quando affrontò il suo primo avversario, Harima Kihei. Era uno spadaccino che incontrò Musashi lungo le rive del fiume Saho. Musashi, desideroso di mettersi alla prova, accusò Kihei di un falso crimine e lo colpì con il suo bastone, sfidandolo ad un duello. Kihei rispose sfoderando la sua spada, ma a questo punto Musashi era ormai troppo vicino e avendo gettato l'uomo sul pavimento lo colpì fino alla morte con 14 o 15 colpi del suo bastone alla testa. Dopo questo primo combattimento Musashi ha viaggiato in tutto il Giappone impegnandosi in sempre più duelli con noti come Musha Shugayo che significa letteralmente la strada di un guerriero samurai. Ha anche combattuto nella famosa battaglia di Sekigahara dove in qualche modo ha rifiutato di combattere come suo vassallo che è forse momento in cui è diventato un vero e proprio ronin un samurai senza padrone ed è stato proprio da questo momento in poi che iniziarono i suoi leggendari duelli. Si è guadagnato la reputazione di maestro spadaccino e lo shogun Ashikaga Yoshimasa gli assegnò il titolo di imbattibile tra i paradisi. Quando Usashi sfidò Yoshihoka ossia il maestro della scuola di combattimento Yoshihoka a un duello questo accettò immediatamente ma Musashi era un avversario molto più astuto e si era preparato. Sfruttando le usanze del giorno a suo vantaggio Musashi arrivò deliberatamente in ritardo al duello infuriando il suo rivale e facendoli perdere la karma. Quando iniziò il duello Musashi colpì rapidamente colpendo il suo avversario in ira sulla spalla sinistra facendolo cadere e paralizzandoli il braccio sinistro. Con il comando della scuola che ora passava a Yoshihoka a Densichiro che era uno spadaccino altrettanto micidiale Musashi fu sfidato a duello da Densichiro per vendicare il maestro sconfitto e ridare quindi onore alla loro scuola. Musashi accettò avvidamente e arrivato a Kyoto dove si sarebbe svolto il duello Densichiro arrivò brandendo un lungo bastone rinforzato con acciaio e pronto a uccidere un irriverente Ronin ma non aveva imparato nulla dal destino del suo ex maestro. Musashi infatti arrivò di nuovo in ritardo facendo arrabbiare il suo avversario Musashi aveva già approfittato della povera compostezza dei suoi nemici e anche in questo caso lo disarmò e lo sconfisse gettando in disgrazia l'intera famiglia Yoshihaka ma non sarebbe finita qui con la leadership che ora cadeva ad un ragazzo di soli 12 anni di nome Yoshihaka Matsachiro la scuola riunì una piccola banda di arcieri e spadaccini e persino moschettieri e dopo aver sfidato Musashi ad un altro duello aspettarono che arrivasse tardi sul luogo del combattimento per porre fine alla sua vita Musashi però aveva fatto qualcosa di completamente inaspettato era arrivato presto nascondendosi nei cespugli vicini Musashi valzò nel mezzo dei suoi avversari e ferocemente attaccò Matsachiro spaventandolo e portandolo quasi alla morte poi Musashi fuggì difendendosi contro il fuoco dei moschetti degli arcieri e gli inseguitori spadaccini sotto incredibile pressione Musashi fu costretto ad estrarre la sua seconda spada per sopravvivere e usarla per sfuggire con successo fu qui che inventò il suo stile unico di combattimento samurai chiamato Ninten Ichiryu combattendo con due spade per quanto fossero straordinari questi duelli quello più straordinario della sua vita doveva ancora arrivare dopo aver combattuto 60 duelli e vinto 60 volte Musashi si sentiva imbattibile ma c'era un solo avversario in tutto il Giappone che si pensava fosse uguale se non superiore a Musashi ossia Sasaki Kojiro il demone delle province occidentali in un'epoca in cui il combattimento con la spada era davvero un grosso problema questi erano veramente i due più grandi problemi di tutto il Giappone Sasaki era forse il guerriero più temuto del suo tempo era composto senza paura e l'esatto contrario di Musashi rispettoso e aderente alle tradizioni brandiva una Nondachi ossia una spada piuttosto lunga e pesante rispetto a una normale spada giapponese ma nonostante ciò si diceva che Sasaki la impugnasse con velocità e potenze innaturali un duello fu organizzato sull'isola di Funojima e in piedi sulla spiaggia con la mano appoggiata sull'elsa della sua spada Sasaki attese che il suo avversario arrivasse tardi e in barca Musashi si trascinò sulla spiaggia con un aspetto irriverente che indignò i sostenitori di Sasaki e spettatori ma questo non era l'unico piano di Musashi Sasaki estrae la sua arma Nondachi e si preparò a combattere solo per rimanere sorpreso dell'arma scelta da Musashi ossia una bokken una spada di legno che aveva ricavato dallo stesso timone della sua barca e una che era lunga tanto quanto quella di Sasaki il combattimento iniziò nel giro di pochi secondi Sasaki aveva colpito ma quando il suo colpo cadde Musashi non era lì in piedi a prendere il colpo piuttosto era arrivato in qualche modo al suo fianco e improvvisamente Sasaki si sentì inciampare indietro per poi cadere a terra non sapeva cosa fosse successo ma presto era sulla sua schiena a fissare il sole accecante pochi secondi dopo era morto Musashi aveva colpito la sua testa spaccandogli il cranio e poi fracassando il suo petto in frantumi alcuni dicono che Musashi aveva usato il sole dietro di lui per acceccare l'avversario altri che aveva cronometrato il duello così bene che usò l'alta marea addirittura per aiutarlo a sfuggire agli studenti vendicativi di Sasaki in entrambi i casi il risultato era chiaro ossia che Musashi era ancora imbattuto ed era il più grande spadocino che il mondo avesse mai visto più tardi nella sua vita quando il conto delle vite che aveva preso era ormai enorme Musashi si ritirò in una grotta abbracciando le sue radici buttiste e scrisse un libro il libro dei 5 anelli uno dei libri più famosi e influenti sulla strategia e la filosofia mai scritti le sue tecniche di scarnire beffando e mancare di rispetto ai suoi nemici in modo che si riempissero di rabbia e perdessero la compo stessa avevano così tanto successo che furono copiati dagli inglesi ad Agni Court per sconfiggere i francesi e sono stati successivamente adottati anche da altri combattenti come Mohamed Ali e Conor McGregor nel prossimo video parleremo di Leonida I di Sparta Leonida il Coraggioso era il diciassettesimo re di Sparta della linea Agiade i suoi primi anni non sono ben documentati ma si dice che sia il diretto discendente di Heracle Leonida è noto soprattutto per le sue eroiche avventure militari nella battaglia delle Termopoli durante la seconda invasione da parte dei persiani nel 480 a.C. il re Dario di Persia aveva cercato di conquistare la Grecia per quasi un decennio quando Leonida divenne il re alla morte del re Dario suo figlio Cersei continuò a guidare l'esercito persiano Leonida cercò di fermare l'esercito di Cersei al passo delle Termopoli con 7.000 soldati tra cui i 300 spartani che costituivano la sua guardia personale quando alcuni dei soldati di Leonida lo tradirono mandò via la maggior parte di essi e portò con sé soltanto 300 dei più forti spartani il resto è storia questi sono stati solo alcuni dei più grandi combattiti della storia se vuoi un altro video con la storia di personaggi del calibro di Alessandro Magno Hannibale Barca Sun Tzu Spartacus Attila e tanti altri lascia un mi piace e provvederò a farne un altro appena raggiungiamo i 20.000 mi piace spero quindi che questo video vi sia veramente piaciuto iscrivetevi se siete nuovi al canale attivando la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei futuri video noi come sempre ci vediamo nel prossimo nel frattempo però se volete vedere un altro video vi consiglio uno di questi a schermo che sicuramente vi piaceranno non vediamo nel frattempo ma